ma andrea comunque alla fine secondo te si può dire che c'è un modo di mangiare che va bene per tutti ti spiego perché quello che abbiamo capito noi qua siamo appassionati di body hacking alimentazione potenziativa potenziati potenziante e alla fine abbiamo capito che dipende un po da ciascuno cioè c'è chi è più o meno tollerante al lattosio c'è quello che più o meno tollerante alla carne rossa c'è quella addirittura come la figlia di jordan peterson che se non si nutre di agnello e sale e basta finisce a letto e non riesce a vivere la sua vita ci sono anche casi estremi la persona malata questa è una ragazza che purtroppo ha una malattia rara e vive bene solo se mangia solo agnello agnello non ti so dicendo carne rossa solo agnello però ci sono delle cose annetto dei casi estremi come persone che hanno gravi patologie delle due o tre cose che uno dice guarda questa è insindacabile può arrivare la Weight Watchers come sono vintage esiste ancora la Weight Watchers purtroppo sì dalla Weight Watchers a Berrino a Tim Ferriss Slow Carb eccetera no raga mi spiace queste tre cose sono timbrate a fuoco e bisogna farle tutti quanti allora secondo me esiste ma almeno il 50 per cento non è assolutamente d'accordo quindi secondo me ci sono delle leggi fisiologiche che tu ci creda che tu sia d'accordo oppure no che sono quelle poi che se apriamo il dibattito anche in università c'è chi ti darà ragione chi no però sì secondo me come dire l'essere umano ha una capacità di adattamento quando noi mangiamo dal mio punto di vista mangiamo innanzitutto energie puoi seguire la dieta paleo la dieta vegana la dieta zona la dieta cioè quello che vuoi è perché poi a livello biochimico carboidrati proteine grassi vengono scomposti diventano una molecola che è unica che l'acetilcoenzima che ci serve per produrre energia come si chiama scusa acetilcoenzima ok ok poi questo acetilcoenzima a livello biochimico lo si trova sia come via di uscita che come via di entrata quindi serve anche per produrre nuovi acidi grassi ok quindi però il fatto che tutto venga ridotto questa molecola permette di parlare di calorie e di energia l'energia governa la vita senza c'è chi sostiene che campa senza mangiare senza però i respiriani i respiriani tra i nostri corsisti di money surface che ricordo offre questo podcast corso di formazione finanziaria abbiamo tanti respiriani no scherzo però wanna be respiriani cioè che vorrebbero esserlo ecco però ecco diciamo che tra che si cibano delle energie provano e poi però gli viene fame a un certo punto esatto perché tra quando qualcuno sostiene qualcosa quello deve anche provare deve essere replicabile e quindi finché non è stato provato scientificamente che qualsiasi creatura vivente non ha bisogno di energia per il suo sostentamento che sia una pianta che sia un animale o che sia l'essere umano noi abbiamo bisogno di questa energia ora il corpo si può adattare alle energie che gli vengono date quindi meno mangio più il mio corpo va al risparmio e meno ho bisogno di queste energie ma un minimo c'è quindi tra una quota minima e un range di una quota massima oltre alla quale inizia a stare male perché accumuli peso maggiore infiammazione eccetera 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 ecco questa è una delle leggi della vita noi abbiamo bisogno di un tot di energia per nutrirci poi ci sarà chi sta meglio con i carboidrati ci sarà chi sta meglio con i grassi chi con le proteine chi con un mix equilibrato quello è individuale però diciamo che senza energia senza la giusta quantità di energia che non è un valore ma un range difficile poi stare a parlare di salute di miglioramento di quello che vuoi e quando dice energia significa che sono alcune diete che danno più energia di altre o no diciamo che la base di qualsiasi dieta dovrebbe apportare la giusta energia al fabbisogno della persona anche il fabbisogno della persona non è mai un valore fisso perché io oggi sono andato a correre oggi ho fatto la spesa oggi però diciamo che in un range dobbiamo stare ecco questo è secondo me la mia idea di base dell'alimentazione ci sono un sacco di cose che ti chiederò perché devo dire che la maniera in cui comunichi è davvero interessante nel senso che sei molto bravo comunicare nel senso che hai sempre l'ambizione e poi ci riesci di spiazzare un po le persone andando a lavorare su quei luoghi comuni che vengono reiterati oramai ovunque in tutti i canali uno di questi ad esempio ho visto un tuo video sullo zucchero no dove a fai vedere il discorso dell'indice glicemico come per esempio la zucca a un indice glicemiche più potente dello zucchero saccarosio si quello glucosio e ed è bellissimo quel video è una cosa che ho notato che mi è piaciuta molto è che tu dici una cosa interessante sulle ricerche scientifiche perché da china stadi in poi abbiamo visto che giustamente vengono avvalorate alcune tesi legate al mondo della scienza alimentare citando delle ricerche scientifiche però una cosa interessante che detto tu che ci ha detto anche l'ospite precedente massimo polidoro dice guarda che la scienza non è che è monolitica ci sono tante ricerche alcune dicono cose diverse poi ad un certo punto si crea un pensiero dominante che detto così fa un po paura un pensiero che la comunità scientifica in maniera autonoma come un organismo autonomo quindi senza che un putin dall'altro decida arriva ad una conclusione però ci rimarranno sempre dei ricercatori che saranno in disaccordo ed è chiaro che se tu vendi qualcosa propone qualcosa di google qualcosa e citi una ricerca che non è abbastanza citata da altre perché poi la scienza la scienza funziona come google che c'è ranking a seconda di quanti ti hanno citato nelle altre ricerche la tua ricerca importante e questo dato è un casino perché le persone normali poi tendono a cadere in trappole magari di marketing dove si creano brand su legati a determinate di diete citando ricerche che poi magari le persone non vanno a vedere quanto sono avvalorate dalla comunità scientifica ma allora sia un problema che sta alla base perché gli stessi ricercatori non lo fanno nel senso anche noi vediamo la ricerca scientifica come qualcosa di oggettivo cioè come qualcosa di dire lo dice la scienza in realtà la base della scienza ci sono le persone le persone hanno i bias hanno le loro convinzioni e continuano a perpetuarlo all'interno delle ricerche che fanno nel senso che il ricercatore che ti dice l'indice glicemico la dieta mima digiuno qualsiasi cosa che magari poi arriva anche al pubblico e quindi alla massa ha preso quel filone lì e per tutta la vita cercherà prove scientifiche che avvalorano la sua idea bias della come si chiama la conferma nel senso c'è una grossa lotta anche all'interno della comunità scientifica proprio per questo poi si trova tutto il contrario di tutto e trattare ricerca scientifica vuol dire fare quello di mestiere nel senso è una competenza che per esempio io non ho poi conosco delle persone che lo fanno e quindi ho dei punti di riferimento ma anch'io quando mi vengono dati dei paper scientifici ho inizialmente cioè so quelli sono gli strumenti per trovarne i limiti il ranking che dicevamo prima ma anche nel senso se cioè che tipo di studio è però poi devi avere una conoscenza statistica quindi continuare a studiare per tutta la vita perché anche chi studia la letteratura scientifica continua a migliorare i metodi di analisi della letteratura scientifica quindi non è che hai un livello e quel livello ti rimane identico per tutta la vita ma non mano all'interno della tua carriera scientifica diventi sempre più bravo ad analizzare a trovare le fallace a trovare i problemi statistici che si presentano perché per esempio per quanto riguarda l'alimentazione per anni abbiamo detto l'alimentare la colazione è il pasto più importante perché c'era un sacco di letteratura scientifica che avvalorava questa questa idea qua il problema che quella letteratura scientifica aveva tanti bias aveva tante problematiche che una volta che l'hanno fatto notare hanno detto a allora forse non lo sappiamo cioè non qualcosa di magmatico anche quello cioè non non c'è mai una un'assunzione per che dura per sempre poi mi viene da dire mi collega anche a questa questa idea ma secondo te è possibile che a seconda delle epoche l'uomo deva mangiare in maniera diversa cioè adesso ti dirò quando lavoravamo nei campi dovevamo muoverci tutto il giorno bisogna mangiare di più vai a vedere cosa mangia a pranzo un un carpintiere si può dire carpintiere non è vietato ancora come nessuno ancora e giustamente e dici beh un impiegativo un impiegativo non può mangiare la stessa cosa però c'è secondo te nel tuo studio anche una differente alimentazione a seconda proprio delle epoche dei decenni ma negli anni ottanta bisognava mangiare il salmone con la panna se no non eri nessuno i panini gli hamburger diciamo che c'è come dire di solito si fanno si analizzano delle epoche un po più grandi nel senso che c'è una scienza dell'alimentazione evoluzionistica che parte dai primati parte ancora prima dell'uomo preistorico l'uomo preistorico l'agricoltura gli adattamenti eccetera 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 quindi sicuramente la scienza studia come mangiavamo come mangiavano i nostri antenati come stiamo mangiando oggi come mangiano gli altri animali e quindi vede tutte queste grosse differenze ti interrompo te lo chiedo anche proprio per questo proprio per la gigantesca ondata di moda della dieta paleo no che ha detto beh no ma noi abbiamo capito che siamo diventati così perché abbiamo iniziato a fare l'agricoltura e quindi ci siamo seduti e sono iniziati i problemi i nostri avi invece che erano gather hunters quindi cacciatori raccoglitori erano fighissimi stavano bene e non avevano problemi di niente nel senso allora posso dire che studiando l'alimentazione io sono convinto che l'alimentazione è sopravvalutata no ti giuro sai che allora questa posso darti la mano no perché non avrei mai sperato di sentire questa fase da te e questo ti rende ancora però spiegacela bene no perché era era nella mia scaletta però me l'ha anticipato ma perché bisogna dedicare così tanto tempo a cosa quello che si mangia poi ne parliamo dopo perché secondo te è sopravvalutata ma allora nel senso perché vedevo una volta una trasmissione che facevano vedere le cartine del mondo quando l'uomo ancora non conosceva come era fatto il mondo meno conoscenze avevamo e più queste cartine erano dettagliate c'erano particolari venivano descritte ma non mano che abbiamo sempre più preso confidenza con la geografia abbiamo sempre di più avuto la tendenza a semplificare come era la descrizione del mondo la stessa cosa funziona un po come nell'alimentazione meno conosciamo e più incominciamo a dire no perché se mangi il merluzzo anziché la soglio la no perché se fai questo se se mangi ogni 30 minuti in ogni 40 cioè incomincia a mettere un sacco di particolari un sacco di cose che sembrano il trucco magico il segreto quello che fa la differenza in realtà poi più studi più ti rendi conto che finché ci credi benefici dell'effetto placebo ci sono un sacco di malattie psicosomatiche di persone che si autoconvincono questo mi fa bene questo mi fa male e hanno l'effetto placebo o nocebo nel senso che appena mangiano qualcos'altro appena mangiano quello si scatenano proprio delle reazioni e mi ricordo gli spinaci di braccio di ferro è la verità da bambino io sto pensando che sempre tra i nostri corsisti che comunque avendo inventato questa parola yoga finanziario tantissime provengono dal mondo della spiritualità vegetariana eccetera e mi ricordo primo corso che fecimo di trading all'epoca eravamo all'isola di malta o di creta non mi ricordo e mi ricordo sto ragazzo qua ma un ragazzo che aveva un papà con la famiglia scusa ma mi si è bloccato tutto il collo sono paralizzato e che cazzo è successo ho mangiato troppi cereali a pranzo ma come cazzo è possibile che ti viene una paralisi della testa se mangi cereali ma stiamo andando fuori di testa e ti sto parlando di dieci anni fa però noi riversiamo nel cibo che svolge un ruolo importantissimo nella nostra società nella nostra persona un sacco di cose che in realtà il cibo non ha ma nel momento in cui noi gli affidiamo questo questo ruolo questa cosa e ci facciamo influenzare un po la poi la profezia che si auto avvera è un po quindi alla fine come dire quello che ho parlavo appunto con massimo abbiamo preso il treno settimana scorsa assieme e gli dicevo più studio l'alimentazione e meno cose ho da dire perché più studio e più vi rendo conto che quello ma guarda non è rilevante quello neanche cioè alla fine le persone vorrebbero trovare chissà che trucchi chissà che segreti chissà che vantaggi comunque è una figata perché tu pensi magari ci sarai già autonomamente arrivato perché io da imprenditore direi bella che cazzo di lavoro sto facendo ma in realtà no perché fai il detox delle 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 fisse mentali delle persone cioè andando a fare la pulizia le persone non vogliono questo cioè nel senso è una cosa che a livello commerciale che il pubblico comunque non richiede perché le persone vogliono avere la piuma di dumbo cioè le persone vogliono spendere per la piuma di dumbo non vogliono spendere per togliersela quindi io stesso che poi devo vendere qualcosa non è che posso togliere tutto se no non vedo più niente ma una parte secondo me molto importante non è anche un ritorno più che altro più più che a sapere quale ingrediente ci fa bene a conoscere come noi interagiamo cioè quindi ad ascoltarci no allora purtroppo secondo me più ti ascolti più ricadi preda della tua autosuggestione ok cioè nel senso anche lì diventa molto difficile dire io sento che cosa mi fa bene io sento quanto ne devo mangiare perché il sentire è una cosa completamente soggettiva che poi non è cioè io sento un sacco di persone che dicono di mangiare bene che hanno dei paraccia che hanno del grasso addominale che sicuramente non è ottimale la loro situazione ma dicono che sentono e purtroppo il sentire toglie quell'oggettività che l'essere umano tende invece ti dico il sentire per quanto mi riguarda adesso che ho 46 anni ebbene non si vede ma oggi si mangi bene oggi si vede il sentire secondo me ti lancio questa provocazione secondo me è una figata al sentire però non a vent'anni non a 25 non a 30 dai 40 in poi sei fatto determinate cose tipo a cosa servono le diete estreme la chetogenica la carnivora adesso addirittura sai che negli stati uniti esplosano la slow carb la vegetariana la vegana sono tutte cose estreme io l'ho provate tutte e tutte mi hanno dato qualcosa le ho smesse tutte le ho iniziate tutte e le ho terminate tutte tutte quante mi hanno fatto crescere un po in consapevolezza alimentare perché quello che dici tu è giusto lo capisco se tu ti senti andrai sempre a essere vittima di quelle che sono le tue convinzioni o piuttosto a volte le tue dipendenze però dipende chi sente non è che tutti sentiamo la stessa maniera allora qual è il tuo grado di consapevolezza del tuo corpo tanto quanto il buddha se sente una roba minchia una roba vera perché quello non c'è niente proprio da dall'anima al cervello tutto pulito un canale limpido alla stessa maniera un buddha dell'alimentazione che però non è un ragazzo giovane non è una persona che ha mangiato sempre uguale in tutta la sua vita ma che ha sperimentato come come un viaggiatore c'è uno che è andato in giro per il mondo c'è un certo di consapevolezza un grado di consapevolezza superiore dell'essere umano rispetto a uno che non è semmai mosso da cinisello balsamo cosa ne pensi mi nel senso che il valore dell'esperienza è molto importante molto alto se però questa esperienza ti permette di costruire ti faccio un esempio io vedo che lì c'è il fuoco ma vicino mi scotto ok ho fatto esperienza che non devo bruciarmi e questo ha un valore ma se io tutte le volte che ho provato qualcosa ho sentito qualcosa poi ho cambiato idea poi ho provato un'altra ma oggettivamente come faccio a dire è giusto è sbagliato perché alla fine continuo ad andare ai livelli di produttività per esempio cioè per me è quello un buon metro però sai cos'è nel senso il problema da milanese imbruttito quali sono è che magari io un parametro ma i miei livelli di produttività sono influenzati da mille parametri ok quindi nel senso ho trovato una compagna con cui sto meglio e ho trovato una nuova passione dormo peggio dormo meglio c'è un cambio stagionale cioè come fai a dire che l'alimentazione mi fa produrre di più cioè finché io ci credo e per questo io inizio una nuova dieta e dico come sono più produttivo ma probabilmente questa nuova dieta può essere una dieta paleo una dieta vegana una dieta zona una dieta del gruppo sanguigno il fatto di aver fatto una cosa nuova mi sta dando un 30 per cento in più ma è la cosa nuova non è quella dieta lì specifica perché tutti quelli che iniziano le diete hanno trovato il santo graal finalmente questo farà la differenza e finché ci credono c'è la profezia che si auto avvera e oggettivamente danno di più il problema che poi questa cosa l'entusiasmo della novità piano piano cala e mediamente non so chi inizia la paleo soltanto un 5 per cento la farà per tutta la vita chi inizia il digiuno intermittente soltanto proprio lì volevo arrivare perché invece proprio l'esempio il digiuno intermittente io l'ho iniziato sette anni fa non smetto mai non mi pesa minimamente e credo che sia una delle cose che più mi ha migliorato la qualità della vita ecco abbastanza lungo termine però però caso non fa no chiaro è ognuno ognuno deve vedere se stesso io ti dico il digiuno intermittente l'ho conosciuto 12 anni fa 12 anni fa rivolto all'america e chi si occupava di queste cose quali cioè anche perché andava a ribaltare tutte le convinzioni che c'erano l'azione sulla colazione sì sì io conosco gente che l'ha fatta come me 12 anni fa alcuni la fanno ancora oggi la maggior parte e poi l'ha mollato quindi probabilmente il digiuno intermittente è uno stile alimentare che si adatta al tuo stile di vita che si adatta come il tuo corpo riesce a gestire le energie che come dire è congeniale a te dire che il digiuno intermittente è ottimale per tutti noi quattro no è possibile io non potrei mai per esempio ma io ho un substrato come vedi qua da queste statue un po animico spirituale sono interessato alla yurveda e trovo molte corrispondenze nel mio stile di vita dagli insegnamenti della yurveda e ad esempio io sono pitta non so se tu ti intendi aiuta no pitta non è il kebab è un tipo di 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 dosha quindi loro credono che ci si divida sostanzialmente in tre famiglie poi con varie sfumature e come vedi io sono molto loquace capelli chiari sono proprio così e devo mangiare tante volte snack continui e mi fa stare bene io ogni volta che vado in calo credo che si dica glicemico divento pazzo la mia ex infatti non sono sono single adesso no perché hai finito gli snack no veramente cioè nel senso che divento intrattabile è anche mio figlio uguale a me però ad esempio io quella roba non potrei fare lui è opposto io invece preferisco mangiare un bisonte al giorno esatto lui è caffa proprio lo vedi di quelli che stanno un po più stati che statici non hanno mille grilli famiglie non gli piace troppo il rischio tranquillo e mangia poi mangia di tanto in una volta sola anche lì è possibile che ci sia nella non tanto nella dieta ma nella dinamica alimentare quindi proprio nella nella scansione con cui ci nutriamo la differenza a seconda del nostro imprinting del nostro carattere sì sì nel senso diciamo che poi abbiamo iniziato a fare la chiacchierata dicendo quali sono quei capisaldi universali l'aderenza alla dieta è un altro di quei capisaldi nel senso che non dovrebbe essere la persona che si adatta alla dieta ma la dieta che si adatta alla persona quindi voglio fare cinque sei pasti al giorno c'è una fetta della popolazione che più adatto a trovarsi bene con questo stile alimentare faccio il digiuno intermittente 1 2 pasti al giorno faccio il digiuno intermittente e quello che la fisiologia che io seguo dice che quello che conta è la settimana nel senso poi all'interno di questa settimana uno si gestisce in un modo uno si gestisce un altro lì è soggettivo ed è il bravo nutrizionista che capisce la persona e non è che gli dice questo il tuo piano alimentare parte dai tuoi bisogni e crea il piano alimentare sui tuoi bisogni quindi è la dieta che si adatta a te non sei te che ti adatti alla dieta c'è un libro adesso che sta andando molto nell'ambiente sempre underground new age sulla influenzabili influenze che può avere il cibo sull'umore delle persone sulla poi vabbè addirittura come si chiama aspetta ce l'ho qua il titolo ovviamente al cibo del risveglio si chiama questo libro e dice un testo che ci invita a guarire le nostre emozioni a trasformare le nostre relazioni e la nostra vita attraverso il cibo che mangiamo e il modo in cui lo mangiamo non è un po po troppo cioè è possibile è studiato scientificamente sì allora scientificamente faccio un esempio cioè il come si chiamava il futurista italiano marinetti no lui diceva dava la colpa al problema dell'italia alla pasta alla pasta no beh gli italiani non potranno mai vincere una guerra non potranno mai avere una leadership industriale perché mangiano troppa pasta come funziona il mio metabolismo io sono perfettamente d'accordo con marinetti allora è provato scientificamente che finché ci credi funziona nel senso che tutto quello che noi ricolleghiamo come emozioni al cibo e tutto è un valore una cosa che affidiamo noi al cibo ma nel senso se noi facessimo mangiare queste persone senza capire che cosa stanno introducendo non ci sono non si sortirebbe più questo effetto qua e nel senso purtroppo ci sono tanti studi che il cibo biologico che ben venga è un modo per difendere il made in italy è un modo anche per incentivare la sostenibilità l'ambiente l'agricoltura eccetera 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 purtroppo la letteratura scientifica fa vedere che chi mangia biologico non è che si ammala meno di chi non mangia biologico mi stai smontando pure questo cioè io spendo 300 euro la settimana da natura sì per un cazzo anche vero che il biologico è spesso molto relativo allora il biologico può essere molto relativo ma quello che fa la differenza è mangiare in modo naturale e mangiare i cibi naturali definissimo naturale ecco anche qua dovremmo definire naturale nel senso diciamo 5 6 porzioni di frutta e verdura quindi un'alimentazione con una buona base vegetale nel senso che noi abbiamo bisogno di fibre minerali abbiamo bisogno di un totto di nutrienti che stanno nella frutta nella verdura nella carne nei cereali integrali nei legumi non stanno nelle merendine nei cibi lavorati stanno i minor quantitativi rispetto alle calorie che ti danno gli altri alimenti cioè se io vado a vedere un pacchetto di biscotti guardo le calorie che ha e i nutrienti rispetto a cose meno dense a livello energetico vedo che c'è proprio una sproporzione cioè nel senso è quello che si vede che generalmente l'essere umano o mangia una cosa o mangia un'altra cioè è difficile trovare uno che ti mangia al mcdonald più cinque sei porzioni di frutta e verdura quindi chi mangia al mcdonald di solito mangia al mcdonald e non mangia cinque sei porzioni di frutta e verdura per quanto mcdonald come disse battiato è buono no una volta una volta al mese al mcdonald bisogna fare battiato due due cose mi sono rimasto nella testa di intervista battiata la prima era nicola sabino di radio dj che sull'ascensore gli diceva franco franco quest'estate sono stato in india pensando di trovare chissà quale sponda e ti piaciuta bellissima spirituale a me fa schifo la seconda sempre su lui ovviamente come si chiama vegetarianissimo mangiava pochissimo riso solo integrale raccolto nel solo a sull'etna e dice che una volta erano in una switch come si dice l'aereo in uno scalo aereo chissà dove in un aeroporto lui e maglio sgalambro che era quello che scrive i test delle sue canzoni nell'ultimo periodo e l'unica cosa aperta in tutto l'aeroporto era un fast food e quindi o il burger king o mcdonald fa l'ho mangiato era contro me ma una cosa più buona di quella io non l'ho mai mangiato perché effettivamente ragazze comunque anche lì perché poi funziona anche al contrario secondo me quello dice è un bias al contrario mcdonald fa schifo il mcdonald non è che magari ti fa schifo perché sai che fa male allora secondo me un po si c'è un bellissimo sketch che potete trovare su youtube di due ragazzi inglesi americani non mi ricordo più che prendono il pollo del mcdonald e lo portano a una fiera del biologico dicendo che pollo biologico e lo danno a tutte queste persone della fiera avevano fatto l'esperimento anche a milano con dei panini perché il mcdonald aveva fatto una nuova serie di sandwich gourmet e li avevano portati in un burger joint e la gente ecco quindi nel senso le persone mangiando il mcdonald pensando che invece era biologico nessuno si lamenta e dicono anzi si sente che questo prodotto esatto esatto allora la verità è perché poi ci sono anche altri studi che fanno vedere di gente che migliora la sua salute mangiando al mcdonald e uno dice io quando ero ragazzino vidi il film documentario super size super size me super size me è vero e dice guarda questo come si è rovinato a mangiare perché oggettivamente un ingrassa e invece gli studi che fanno vedere che la gente migliora mangiando il mcdonald dimagriscono e il segreto dell'alimentazione è che il segreto non è dell'alimentazione ma è dentro di noi nel senso se noi facciamo un'alimentazione che ci fa perdere peso che ci fa migliorare la glicemia abbassare la pressione sanguigna quindi un'alimentazione prevalentemente ipocalorica perché che sia la dieta mima digiuno che sia la dieta quello che vuoi quando uno fa una dieta dove dimagrisce dove arriva al suo peso forma dove non ha grasso addominale grasso viscerale migliora tutti i parametri della salute ecco quindi che uno ci arrivi tramite il digiuno intermittente tramite stile zona tanti pasti eccetera eccetera l'importante che ci arrivi perché è il corpo che si autoguarisce quali sono gli errori più comuni che vedi nella gente quando si alimenta secondo me non avere consapevolezza cioè nel senso che questo cibo mi fa bene allora abbondo questo cibo mi fa male in realtà non è vero che fa male se c'è di ma cioè per esempio l'olio di palma l'olio di palma è stato denigrato è stato la mulino bianco la barilla via dagli scaffali fa più male alla natura che a noi sì però per esempio il vvf è pro olio di palma perché se andiamo a vedere gli etteri che servono per coltivarlo quanto olio produce è quello che ha la miglior resa quindi tu non fai olio di palma ma con cosa lo sostituisci e poi se lo sostituisci con gli altri oli devi deferostare ancora di più perché bisogna ancora più di etteri e infatti il vvf dice va bene attenzione le le piantagioni di olio di palma fanno male all'ambiente cosa facciamo cosa facciamo al posto i grassi idrogenati grassi idrogenati sono peggio è un po come con l'energia per i pannelli fotovoltaici sì ma se ricopriamo l'italia è un problema dopo no perché io vedo ma abbiamo vissuto tutti all'estero noi qua vediamo tanta differenza anche fra i paesi no c'è per esempio i francesi mangiano sempre l'insalata prima e vedo che adesso sta prendendo anche in italia non so deve essere partito qualcuno che lo dice capirai è un'invenzione della sicuramente è diventato ricchissimo questo mangiare il segreto ebook poi con qualcosa devi mangiare l'insalata prima dei pasti a perché vabbè ti dà sazietà non ti dà calorie eccessive eccetera e vedo effettivamente poi verdura fresca e sappiamo tutti che fa bene anche se si dice io ho studiato che l'insalata non è che ci sia chissà quali no no all'effetto di toglierti di non mangiare altre cose che potrebbero fare peggio esatto anzi dell'insalata che sembra proprio non più sulta della cosa che fa bene io ho letto vari libri chissà se sei d'accordo anche tu che in realtà è un problema perché l'insalata se tu fai la tara di quanti principi nutritivi ha dentro di quanto costa trasportarla e metterla nel supermercato supermercato dici no beh non dovrebbe esserci insalata un conto se te la coltivi a casa tua te la prendi ma se devi trasferire riempire camion di una roba che è una foglia che dentro non è che c'ha chissà quanto anche quello dal punto di vista dell'impatto ambientale potrebbe cioè però diciamo che potrebbe essere un problema di tutta la frutta e verdura perché se guardi quanto quanto riempiero quanto quanto danno intensità nutritiva rispetto a parte l'avocado che è una gran moda del momento però ecco si parla tanto dei danni dell'olio di palma ma anche le piantagioni di avocado in messico per esempio perché va così tanto di moda l'avocado adesso che lo trovo al ristorante ovunque avvocato e burrata avvocato e petto di pola ma che parla e salmone avvocato e salmone diciamo che ci sono i superfood per cui vengono date delle proprietà mirabolanti a determinati alimenti c'è un buon rapporto tra la produzione il guadagno e il prezzo e quindi sono tutti ben contenti di promuovere questi alimenti e di venderli dappertutto e poi è buono è molto bene cioè io con l'avocado ci faccio una pasta no cioè ci ho mangiato oggi cioè non serve fare il sugo no no è vero però nel senso ha dei grassi buoni simili all'oliva eccetera eccetera però non è è un cibo comunque calorico tu lo mangi l'avocado ma se io mi piace ma si può coltivare in italia no no e me l'ha cresciuto a me però sì ma sono sterili cioè non non fa frutti sai un'altra cosa a proposito di grassi di grassi noi siamo dei grandi fan dei grassi qua vero no te lo dico perché a me piace un casino il burro e nella iurveda il burro non è un tabù come lo è diventato in italia no io sono cresciuto negli anni 80 che mio papà c'era colesterolo non mangiare il burro non mangiare il formaggio anche qui poi parleremo magari della di questi parametri sulle colesterolo che cambia sono nati da questo studio delle sette nazioni che poi è venuto fuori che in realtà avevano fatto il cherry picking e quindi non è vero che c'è una correlazione tra colesterolo e malattie cardiovascolari invece lui dice di sì ma sempre il titolo della puntata è bene così è la la vita in grande la realtà spesso è una ragione la mia allora anche qua dipende nel senso diciamo questo che in una dieta normo ipocalorica trovare delle correlazioni causa effetto è molto difficile quindi puoi fare la chetogenica finché sei normo ipocalorica mangia quanti grassi vuoi e non è che ti devi preoccupare del colesterolo perché comunque la maggior parte del colesterolo prodotto 70 per cento e a livello endogeno come facciamo a mandare un segnale al corpo di produrre più colesterolo mangiando più calorie più mangiamo calorie ecco però qui secondo me è la chiave perché la cosa che ho sperimentato io di una chiarezza c'è questo non può essere un autoinganno è che ci sono cibi che è quasi impossibile smettere di mangiare e ci sono cibi che mandano subito il segnale di sazietà al cervello e invece è soggettivo cioè no 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 chiaro dico chiaro che è soggettivo ti faccio un esempio però quello che si vede mediamente in ricerca importanti è che 50 per cento dei soggetti si sazia di più quei grassi 50 per cento dei soggetti si sazia di più quei carboidrati impossibile a parità di dose a parità di calorie sì ma io non ho mai trovato il mio limite di consumo di pasta non sono mai riuscito a capire quanta pasta sono in grado di mangiare è sempre finita prima che io potessi chiudere lo stomaco io devo dire che sono ghiotto di tutti e due quindi non riesco a trovare un limite cos'è che hai detto lì tu sono ghiotto di tutti e due quindi quindi però generalmente ma infatti io quando faccio i video poi vedo anche i feedback per quanto non faccia chissà che statistica c'è gente che mi dice io che carboidrati non mi sazio mai e c'è gente che mi dice io mangio grassi e proteine andrei avanti tutto il giorno appena mangio un po un po di carboidrati non riesco la mia compagna attuale è così cioè nel senso lei appena mangia un po di carboidrati sa fa sa moscia non finisce il piatto non finisce ma non finisce perché si sazia prima sì sì perché si sazia prima lì me lo finirei io io finisco i carboidrati di intere tavolate di 20 persone capisci che non è sostenibile però uno deve stare attento a capire quanto è statistico la sua no no chiaro io parlo io dico nel mio caso io so che quello è così quindi ognuno deve trovare quello che funziona però ecco secondo me le diete hanno tanto successo perché avendo comunque delle percentuali così importanti se io ti dico è questa cosa qua vado a prendere il 50 per cento della popolazione e per il 50 per cento della popolazione sono un guru perché dicono cavoli ha ragione l'ho provato l'ho provato anch'io comunque mangiano tutti quindi hai successo per forza esatto allora è così il problema è che invece quando dai delle cose così nette rischi di prendere la metà tu invece non sei netto eppure ti seguono come fai si però diciamo che con tutta la fatica che faccio mi seguono in pochi quindi insomma 300 e passa mila magari 150 9 magari ce l'avessimo noi è vero però diciamo che poi vedo gente che fa molto meno ed è molto più tranchant che ha dei risultati ancora molto più alti quindi su internet e ci sono tantissime bolle tantissime nicchie bisogna stare attenti quando anche anche se sembrano tanti 359 mila a pensare che in realtà rispetto al mare di pubblico che c'è è così mi ha capito che sei un ambizioso insomma no sì vabbè io sono molto ambizioso nel senso quello assolutamente però è molto difficile perché comunque guardiamo anche i giornalisti che hanno più successo in italia o anche i politici sono tutti gente che ti dice di vita è così selvaggia lucarelli sgarbi ascanio come si chiama vabbè sui politici si casca bene cioè basta dire con decisione è così è quello ma infatti lo capisco perché anche io facendo quello formatore finanziario faccio fatica quando dico devi fare la diversificazione del portafoglio non è sexy devi dire cripto buy the dip cioè compra sempre quando le cripto scendono perché le cripto rivoluzionando il mondo moda segui la moda boom vendi corsi fai milioni più o meno poi in realtà non è così invece si dici diversificare il portafoglio importante perché a seconda poi della fase di mercato tu avrai sempre un andamento costante buona la gente sotto è un po perché diciamo che avere il mondo bianco nero risparmi le energie quindi hai capito cioè tu prendi quella strada è così non ti poni più dubbi e vai avanti invece valutare tutte le opzioni ti obbliga a stare fermo a investire del tempo delle risorse delle energie e anche io è probabilmente per la maggior parte delle scelte che faccio bianco nero e vado avanti poi per le cose che mi interessa cerco di spenderci del tempo però non posso spendere del tempo a 360 gradi se no non faccio più niente ecco una domanda mai detto sta frase venuta in mente un'altra tu sei anche il tuo progetto progetto invictus anche tanta dentro parte di forma fisica di training proprio una cosa che ho notato io ho superato l'ho già detto in 40 anni eccetera ho iniziato a capire che effettivamente devo fare un po di palestra perché lo vedevo non tanto nel decadimento normale del fisico perché poi ho letto studiato che effettivamente diminuisce la la massa magra e aumenta la massa ma poi anche le ossa sono un po più sfigate potuto quindi avendo cazzo uno scherzo una corazza più forte più forte invecchi meglio cioè invecchi insomma diventi grande meglio allora mi ha convinto cioè ho studiato però poi ho detto sì lo faccio non mi piaceva andare in palestra ma lo faccio perché devo dire e mi devo dire che mi sta piacendo e però ha visto che parlavi di tempo cazzo è una roba che porta via tempo cioè non so come dire io vivo ho un carattere che la sera di quelli che la sera non riesce andare a dormire perché vorrebbe fare leggere l'ultimo pezzo di libro vedere l'ultimo pezzo di serie scrivere l'ultima mail e per me il tempo è veramente la risorsa più importante di tutte più ovviamente molto di più del denaro cazzo la forma fisica porta via del tempo sì però ti ascolti dei podcast cioè nel senso hai la fortuna che magari appunto puoi permetterti di ascoltare cioè utilizzi il tempo dell'allenamento per apprendere qualcosa tu fai così io faccio così e poi è tempo che stai investendo il bazza anatomico ascolti e poi mi viene a dire il tempo che stai investendo per poterne avere di più dopo anche più tempo vivere di più solo vivere di più vivere anche meglio cioè senso a vivere fino a 90 anni se poi sei però sì io per esempio non so quando vado a correre quanto e l'utilizzo per imparare cose nuove quindi allora correre è diverso perché a me piace io non ho bisogno di essere sempre ipersolecitato forse mi sono espresso male anche correre è diverso perché io vedo il paesaggio che cambia vedo i dettagli vedo un cagnolino poi sono fortunato abito in una bella città col lago cazzo non so come dire anche solo vedere le foglie che cambiano coloro che cadono il sole le nuvole mi basta quello e la palestra è proprio alienante però io invece quando faccio attività fisica a cancelli cancello tutto quindi anzi se vado a correre preferisco correre la notte senza luce introspettiva perché non ho più la distanza quindi metto tutto dentro di me e quindi meditativa cioè un conto è correre nella natura mi è capitato di andare a correre nei boschi allora devi stare attento dove metti il piede cioè hai proprio un contatto con l'ambiente esterno ma correre dove il terreno è sempre lo stesso dove non devi postare così tanta attenzione a questo punto preferisco correre al buio e cioè al buio con la notte che comunque la visibilità non è come di giorno quindi a proposito di questo approccio un po meditativo lo sport sia nell'alimentazione ma anche nello sport cosa credi del fatto che una maggiore centratura interiore possa migliorare il mio aspetto anche fisico esteriore la mia capacità di essere più consapevole sul cibo o al contrario vale di più la regola che se mangio meglio faccio sport meglio sono più centrato internamente cioè da c'è meglio è nato prima la gallina non lo domando spesso sono due due dinamiche che si autoalimentano forse io penso che dal mio punto di vista mangiare è più facile dal punto di vista della programmazione della dieta di come devi mangiare è più difficile poi da rispettarlo allenarsi allenarsi bene da programmare molto difficile ma poi è più facile farlo e l'impatto che comunque all'alimentazione sul nostro fisico è più importante sono importanti tutti e due però uno ha una prospettiva di vita maggiore a curare l'alimentazione e non l'allenamento rispetto a chi cura l'allenamento ma non l'alimentazione cioè l'impatto che al cibo su di noi che poi anche qui non è che ci sono trucchi magici però se perennemente mangi troppo poi la durata della tua vita facilmente si accorcia se mangi il giusto se mangi meno la prospettiva di vita si allunga sì in realtà parlavo più di per esempio la meditazione cioè il fatto di 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 fare un percorso proprio di 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 spirituale cioè quanto non so come dire noto che comunque chi fa io ho tante persone che conosco che lavorano fanno un lavoro lavoro interiore più di qualsiasi tipologia non per forza la mia stessa meditazione però spesso vedo che chi fa quel percorso lì più centrato più rilassato e relax lo stress per esempio no cioè meditando diminuisce lo stress quanto lo stress può distruggere la mia capacità di man di cibarmi bene cioè te lo dico nel senso noi mangiamo anche per nutrirci anche mi piace nel senso che il cibo fondamentalmente serve come sfogo psicologico dico cioè perché le persone mangiano di più di quello che dovrebbero mangiano cose che non li fanno bene perché questo pagarlo sul fisico lo riacquistano tra virgolette a livello mentale a livello di sfogo il problema che poi come una droga hai una suefazione e quindi quello che prima ti appagava poi non ti va non ti appaga più e quindi come dire vai sempre più in quella direzione che ti ti perdi sì io non voglio fare il solito spot della meditazione però devo dire che è evidente che quando hai qualcosa che ti ciba prima ancora di mangiare hai bisogno di mangiare di meno adesso ho fatto una frase un po poetica però un po così è vero nel senso un consiglio che io do sempre mettetevi a dieta se mentalmente psicologicamente è il buon momento per mettersi a dieta perché se c'è già altri problemi o vedi nel controllo dell'alimentazione un controllo di te stesso perché tante persone li piace stare a dieta perché controllare quello che mangiano è un'autodisciplina quindi io ho il controllo di quello che mangio al controllo di me stesso sono padrone di me stesso questo mi gratifica e quindi la dieta la faccio volentieri però se non c'è questa cosa qua stare dieta poi sfocia nell'ortoressia anche molto nell'ortoressia sì cioè diciamo che è difficile trovare passiamo da gente che mangia malissimo e non ha nessuna cultura a gente ortoressica che se li mangi il biscotto della mulino bianco mio dio non è un peccato agli altri era un peccato agli altri sì poi c'è anche un fatto proprio meccanico no cioè se io sono in pace rilassato proprio meccanicamente intanto probabilmente mangio meglio più lentamente mastico meglio non ho fretta non ho ansia e poi il mio stomaco è più rilassato cioè proprio muscolarmente sì sì cioè diciamo che c'è un controllo simpatico parassimpatico e quindi teoricamente quando mangi dovrebbe prevalere il parassimpatico quindi quello che ti calma quello che ti che ti rallenta io predico bene e poi razzolo male perché quando mangio in cinque minuti anche tu secondo me mangi in fretta io ingoio non mastico tipo una cosa che ho imparato una cosa ho imparato che ho notato che al ristorante c'è un dopo un problema per per evitare che cacchi accada questo perché poi non digerisco bene quando mangio troppo velocemente quando mastico lascio le posate sulla sul piatto ogni volta arriva il cameriere che mi leva il piatto no aspetta sto facendo una tecnica di consapevolezza alimentare e quindi è il mercato che ci obbliga sì perché poi ci sono i ristoranti dove i camerieri non si vedono mai ci sono quelli invece che ce l'hai sempre addosso ma tu al ristorante mangi tutto io mangio tutto anche come si fa a mangiare bene al ristorante va bene ma no dai soprattutto se facciamo una dieta low carb secondo me è più facile perché ti indirizzi su tagli di carne un po di verdure cioè nel senso anche lì nel senso mangiare bene al ristorante vuol dire non eccedere già se non eccedi al ristorante secondo me stai mangiando generalmente perché una volta quando ero piccolo io non si andava al ristorante chiedevi solo secondo il contorno ti vedevano come un morto di fame adesso invece cazzo ieri ero proprio ieri pomeriggio ieri a pranzo con mio figlio abbiamo ordinato un primo risotto in due diviso e poi il contorno cioè quindi primo contorno perché il risotto c'era dentro la carne e verdura boom perfetto c'avevo tutte e tre le cose giuste ma io in realtà volevo prendere un'altra cosa per mio figlio no se n'è andato via ha detto ma cazzo addirittura siamo arrivati al livello che non mi fanno dire neanche il secondo è cambiato tutto vero anche lì al ristorante quello è positivo no quello è positivo diciamo che poi questa cosa del primo secondo dessert è molto italiana quindi magari adesso che più globalizzato magari anche qua da noi comincia esserlo meno sai che prima di in questi giorni che ho studiato un po tutto il tuo materiale il pre roll la pubblicità pre roll di un tuo video era una roba assurda adesso voglio sapere se voi la conoscete si chiama lumen è un device quello per dormire no qual è lumen vediamo se non me lo ricavolo allora prima quindi ti targhettizzano sui tuoi video perché in te è una roba assurda ragazzi soffi dentro si 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 soffi dentro e ti dice tutto cioè ti dice che cosa sta facendo il tuo metabolismo non è pubblicizzato da lumen in questa puntata anzi volendo sì basta che ci pagate soffi e ti dice il cosa sta facendo il tuo metabolismo your body is burning fat mi sa che c'è anche in italiano tra l'altro e ti dice quello che sta facendo non solo tu soffi e ti dice anche in base alle tue dati biometrici quindi che magari prenderà da uno smartwatch come quello che tu dì quindi se quel giorno lì dovrai mangiare più porzioni di carboidrati o più di proteine più di zuccheri o più di grassi più di quell'altro io mi sono detto che tristezza cioè andare in giro con sto roba da soffiare dentro per capire che cosa sta facendo il tuo corpo cioè non mi sembra una deviazione allora io ti dico funzionasse dal mio punto di vista sarebbe una gran cagata cioè una gran figata una gran figata ho paura che sia una gran cagata perché la proposta commerciale non deve rispecchiare la realtà dei fatti quindi non siamo obbligati nel momento in cui facciamo una proposta commerciale ad assicurare quella roba lì quindi io ti dico ti dice non so se bruci carboidrati o grassi ok rispetto al gold standard che misura questa roba qua che percentuale d'errore c'hai? 90% ah ok quindi nel senso un'azienda seria magari è questo il caso io non la conosco quindi metto solo in guardia poi magari tutte le obiezioni che faccio però noi lo vediamo commercialmente non mettiamo pubblicità perché ci propongono de ogni chiediamo la letteratura scientifica e spariscono tutti cioè nel nostro settore del fitness nell'alimentazione trovare qualcuno che corrisponde cioè alle promesse fa corrispondere la realtà le dura è più unico cioè non se ne trovano purtroppo eh quindi quando uno vi promette che vi misura vi fa ma poi col respiro come cavolo no sì 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 perché guarda il rapporto fra ossigeno e anidride carbonica nel senso il substrato che noi stiamo utilizzando che è sempre un mix però è prevalente cioè siccome i grassi sono meno idratati a seconda del rapporto tra l'ossigeno e l'anidride carbonica che noi emettiamo emettiamo se riesci a capire che cosa il tuo metabolismo sta bruciando wow noi dimagriamo con il fiato sì sì cioè nel senso diciamo che il fiato è l'ultimo passaggio delle reazioni metaboliche che avvengono quindi ora inventiamo la dieta espiratoria cioè basta espirare tantissimo e uno dimagrisce no però diciamo questo che chi è in salute chi ha una buona capacità metabolica attraverso il respiro non è la causa è la conseguenza però attraverso il respiro brucia più grassi veramente cioè il problema che non è che allora ti insegno a respirare per bruciare più grassi bruciando più grassi respiri meglio secondo me quello che hai detto prima invece se fai un corso fai un voto di forza la respirazione brucia grassi secondo me Mimoff ah i bagni freddi come li vedi tu che era moda anche quella sì sì a me piacciono eh cazzo e all'interno del project abbiamo in tanti che lo fanno quindi non è che però secondo me anche lì è più una ginnastica mentale che chissà che beneficio perché anche lì abbiamo tanta gente che lo fa arriva l'influenza si beccano l'influenza quindi sta cosa che il tuo sistema immunitario cioè il tuo sistema immunitario è abituato quando e viene esposto al freddo ma quando arrivano i patogeni non è che bravo hai capito sì sì no anche il covid è così cioè io ho avuto tante persone che mi dicevano mi parlavano dicendo no ma io mangio bene il covid non mi prende purtroppo no non è purtroppo cioè nel senso diciamo questo che io non mi sono mai ammalato non viene mai l'influenza ma non ho un sistema immunitario adesso non solo amici intimi parlo a un mio amico intimo che in questo momento se mi sta ascoltando mi dice stavo parlando di me no non sto parlando di te lui sa a chi ti sto parlando parlo in generale proprio su internet dice no ma io ho un buon sistema immunitario non ho bisogno di vaccinarmi sto bene non mi verrà mai il covid perché di solito non mi ammalo mai mangio bene mangio bene non mi viene il covid no purtroppo allora diciamo questo che poi è vero scusa è vero in effetti il contrario cioè nel senso la mortalità nel caso della pandemia era molto più alta perché aveva problemi di obesità sicuro però non è detto che il contrario cioè nel senso per esempio sulla vitamina D si è visto che tantissima gente carente di vitamina D era più più soggetta il problema cos'è è la vitamina D o semplicemente chi è più carente di vitamina D è esposto meno a stare all'aperto ha uno stile di vita meno attivo eccetera 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 cioè molto spesso noi prendiamo un dato si cita sempre una cosa sul betacarotene per esempio perché era uno studio abbastanza importante hanno preso tantissimi soggetti anziani hanno guardato la mortalità e hanno visto che chi era carente di betacarotene aveva una mortalità molto più alta di tutti gli altri soggetti interessante cioè nel senso il betacarotene lo possiamo fornire facilmente allora hanno preso due gruppi importanti uno gli hanno dato un placebo all'altro il betacarotene i soggetti tutti anziani cosa hanno visto che chi non era carente di betacarotene moriva esattamente come gli altri hanno detto ma scusami abbiamo visto prima che chi era carente di betacarotene aveva una mortalità più alta siamo andati a sopperire a questa carenza e sono continuati a morire come prima perché perché chi è carente di betacarotene non è che non assume solo betacarotene non mangia abbastanza frutta e verdura non ha uno stile di vita attivo eccetera 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 quindi il betacarotene era soltanto un marker che stava a significare un quadro molto più grande molto più complesso non basta il betacarotene per andare a migliorare tutto il resto fighissimo se voi siete carenti di vitamina D assumete la vitamina D ma la vitamina la carenza di vitamina D sta che non state esposti abbastanza all'aperto non avete cioè non basta soltanto prendere integrare quindi cioè tutta la super moda adesso degli integratori vitamina C io li prendo devo essere sincero con questo beneficio uno può benissimo prenderli il problema sono le aspettative che abbiamo di dire le ho prese ok le ho prese e quindi cioè infatti la comunità scientifica ha detto siete carenti di vitamina D prendete la vitamina D ma non perché prendete la vitamina D dovete essere più tranquilli verso il covid perché se il covid vi prende con una carica virale alta c'è tutta la vitamina D che prendi ma ti dà l'ammazzata lo stesso quindi attenzione a non sentirsi come il tuo amico super immuni a qualsiasi cosa perché sto prendendo quell'integrazione perché purtroppo anche qui nel senso le aziende di integratori non devono portare prova di efficacia il mercato dell'integrazione a differenza di quello farmacologico che io per poter rimettere un farmaco sul mercato devo far vedere che questo farmaco fa qualcosa ma soprattutto che fa qualcosa di meglio rispetto ai farmaci che sono già in commercio cioè se io faccio un nuovo farmaco che ha un effetto inferiore a quelli che sono già in commercio non viene permesso di metterlo in vendita l'integrazione non ha questo questo passaggio qua quindi io faccio questo nuovo integratore che ha un mix di zinco vitamina questo e questo e sostengo che fa sta roba qua lo posso scrivere lo posso dichiarare senza problemi pur senza avere nessuna prova che fa quella roba quanto durerà secondo te questa giungla no durerà cioè è proprio insita nell'essere umano nel senso che è proprio nel senso di pensare di prendere qualcosa che ci fa bene no no quanto durerà il fatto che non ci sia una legislazione su questo per sempre ma è tanto perché cioè come dire le farmacie no per te sapere che te lo dico perché io ti ricordo il mio ex socio di money surface quello belga questo ha fatto un milione di euro in un anno facendo questa roba qua allora lui era già esperto di affiliation marketing quindi aveva studiato insomma posizionamento come si faceva dieci anni fa adesso non si fa più così c'è stato un momento in cui sei bravo ti piazzavi bene su google vendevi faceva drop shipping e poi ha iniziato proprio a far produrre egli stesso delle pilloline di integratori per i bodybuilder tra l'altro che dentro c'era caffeina basta e lo vendeva negli Stati Uniti dove se bevono di tutto quelli se seppigliano di tutto basta che c'è un bel video figo sono un po' più credulone di noi gli americani possiamo dire cazzo c'è la pubblicità ah c'è un bel derby dici eh no scommetto tra un po' li raggiungiamo aspettiamo eh però sì perché poi esatto arriva poi anche qua però all'epoca dieci anni fa proprio c'era di tutto bodybuilding fa sì sì c'era questo servizio di white label che lui ti davano queste pilloline tu mettevi il tuo logo il tuo pacchetto blog drop shipping le posizionavamo nei magazzini di Amazon o non di Amazon boom boom un milione di euro cosa vendeva vendeva pillole di caffeina però pazzesco sì sì il punto è che secondo me l'essere umano ha bisogno di queste cose qua cioè la maggior parte delle cose che noi compriamo è più per un bisogno psicologico che per un'utilità però va bene nel senso l'importante è non indebitarsi per comprare 100.000 integratori perché poi come dire finché uno si piglia due integratori tre integratori vabbè ma magari c'è anche gente che parte di matto segue il guru la vanna marchi di turno che gli fa spendere 300 euro al mese di integratori perché c'è anche quel mondo lì c'è anche quel mondo lì cioè nel senso tante diete che ti dicono la dieta sono delle diete talmente fantastiche che devi prendere 300 integratori al mese no nel senso hai match anche poi il dark side anche purtroppo tu hai avuto un amico che ha avuto un tumore poi per fortuna hai guarito però lui ha fatto come farei ugualmente anch'io il giro delle 8.000 chiese di tutti i guaritori santi eccetera e alla fine c'era sempre la fattura con devi prendere questo 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 sono quelli che faccio io sono quelli che funzionano vedrai che guarirà se lì è proprio proprio così poi c'è nel senso vedi che anche quelli che propongono ste robe qua quando si ammalano muoiono capisci che forse non funzionavano così tanto pensai che c'era un tizio tanto lo posso raccontare tanto non cito chi è in provincia di Pavia lui è andato da questo qua che era un guru ovviamente sempre per passaparola devi andare da lui perché lui era uno bravo aveva un macchinario che diceva che gli depurava il sangue cioè non so come lui doveva mettere il dito c'era una luce che gli depurava il sangue ti giuro adesso penserete che è inventato la descrizione è stata questa il medico gli fa medico insomma il wannabe medico il guru fa in questa maniera noi ti togliamo i marocchini del sangue e cos'erano? i marocchini gli immigrati cioè per dire per dire le cose negative agli invasori tipo gli marocchini però poi rimasto un po' indietro i marocchini agli anni 80 no in questo modo ti levo i marocchini un po' come sono i marocchini del sangue e io già da quello è un marker già che il guru ha dei problemi il guru leghista il problema se cos'è che purtroppo c'è tanta classe medica che poi ricade in queste cose qua cioè non è detto che se uno è medico esatto quindi nel senso uno dice vabbè ma sono degli imbroglioni sono gente improvvisata ma sai quanti cioè quanti medici ma anche nel senso ci sono diete bislacche proposte da professori universitari tu dici come fai insegnare all'università e tu cosa ne pensi del fatto che nelle farmacie si vendono i farmaci omeopatici non volevo dirlo però secondo me dovrebbero essere vietati ma non sono ancora vietati no perché sono completamente innocui quindi non c'è modo di vietarli il problema è che anche qui c'è gente che dice no ma la scienza ha dimostrato o meglio si ha dimostrato che non funziona che non funziona anche perché parliamo di una cosa che rivoluzionerebbe le leggi della fisica della biologia quindi fosse l'omeopatia reale e funzionante tutti i libri universitari dovrebbero cambiare cioè sarebbe veramente una cosa epocale invece è dimostrato che non funziona tant'è che per esempio parlavamo prima di letteratura scientifica ci sono riviste scientifiche tra virgolette fatte dalle aziende dell'omeopatia che studiano tutti i risultati eccezionali dell'omeopatia prodotto cioè questi qui si autofanno si autofanno e poi tu vai su papmed e dici ma guarda c'è anche lo studio scientifico che ti fa vedere che funziona proprio per questo è molto difficile e la figura dell'omeopata in Italia può essere fatta solo dal medico hai capito cioè tu non puoi essere omeopata riconosciuto se non sei medico e quindi tu dici ma questo ha studiato chimica sto medico non lo sa che questa roba non ha senso su nessun livello e quindi ci sono queste cose queste cose da da chiederci e io sono convinto che chi crede all'omeopatia e ci sta ascoltando continuerà a credere all'omeopatia e eh sì perché questi temi dividono tantissimo il cibo divide l'integratore poi sai cos'è nel senso a me quando ne parlo mi scrivono ma guarda io ogni volta che c'è un raffreddore puoi dire quello che vuoi prendo la mia pilla omeopatica e mi passa ma se non la prendi ti passava no 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 se non la prendevo non mi passava cioè sono cose talmente è un po' come quando ci convinciamo che quell'alimento eh ci faccia male perché associamo delle cose che non hanno un nesso di causa effetto io ho mangiato i pomodori e il giorno dopo ho avuto mal di pancia ho rimangiato i pomodori il giorno dopo ho avuto di nuovo mal di pancia ogni volta che mangio i pomodori ho mal di pancia no non è che ogni volta cioè io ho creato una correlazione che si è presentata casualmente x volte da quella volta lì per me è diventata una cosa assoluta e quante volte devono esserci affinché si diventi una cosa assoluta no per esempio cioè a me i legumi mi fanno scorreggiare cioè ho 40 anni vabbè quella è abbastanza quella abbastanza quando Berrino dice mangiate più legumi dice guarda però sei Berrino puoi vieni a casa mia e poi ne riparliamo sai cos'è è anche una questione di frequenza e di quantità cioè nel senso per esempio i legumi li puoi mangiare anche tutti i giorni ma se ti danno problemi ne devi mangiare pochi con frequenza se invece li mangi una volta a settimana due volte a settimana con certi quantitativi è logico che magari il tuo corpo non si abitua mai perché quel tipo di fibre hanno bisogno di ricreare una flora batterica un microbiota ma perché il numero dei tuoi microbi intestinali diventa sufficiente per riuscire a scomporre quelle fibre e non darti problemi lo devi abituare a gradualmente e bi-confrequente cioè lo devi allenare insomma ma quindi non ho capito cioè devo mangiare con poca frequenza con tanta no devi mangiare con più frequenza ma con piccoli quantitativi hai capito perché se è infrequente e il quantitativo eccessivo rispetto alla tua capacità attuale ti dà queste reazioni qua ti faccio un esempio tantissime persone sono intolleranti al lattosio pur digerendolo tu dici ma come è intollerante perché perché erano piccolini bevevano latte hanno continuato a bere latte lo bevono tutti i giorni il microbiota anche se tu hai perso la lattasi a livello dei villi intestinali quindi questo enzima che ti permette di scindere lo zucchero i tuoi microbi lo fanno per te e quindi tu continui a bere il latte pur essendo intollerante al latte e non hai nessun non hai flautolenza non hai diarrea non hai problemi perché il microbiota cioè i microbi che stanno nel nostro intestino hanno questa capacità di digerire quello che gli diamo accade anche con la carne lo dico perché tante persone dicono no ma io non posso più accade con la carne e accade anche con la pasta quindi anche con la pasta se tu non mangi mangi poco la pasta ogni volta che mangi la pasta che sonno cioè hai tutta una serie perché anche lì è un quantitativo di quantità e di frequenza i vegani che oppure chi è vegetariano chi comunque vuole diventarlo non mangia mai la carne le capita di mangiare la carne e ti dice io ogni volta che mangio la carne rossa sto male e sì ci credo che stai male perché non sei più abituato a cioè più che te sì sia il tuo corredo enzimatico che ovviamente più facciamo qualcosa e più il corpo si specializza in quella roba lì anche nella digestione e poi proprio la nostra flora anche se poi è sbagliato a livello tecnico chiamarla così però perché è quella dell'intestino la flora no sì si chiamava così ma è un termine che a livello scientifico non viene più avvalorato però eh sì cioè le abitudini come nella meditazione come anche in alimentazione si adesso la differenza basta con le cose autobiografiche però è l'ultima anche i peperoni cioè a me piace un casino cioè non so di Pietro quando ha detto in diretta tv che aveva mangiato la peperonade anche peperonade la buccia perché se le mangi senza buccia le devi tutto e io comunque non potevo più mangiarli però mi piacciono talmente tanto che ogni tanto ne mangio pochi quindi quella potrebbe essere una tecnica cioè di mangiarne pochi più frequentemente più frequentemente per gli abituare esatto perché magari ne mangi pochi ma infrequentemente quindi non ti abitui mai invece avere una certa frequenza il problema è che la peperonata non è che la fai tutti i giorni no infatti invece le lenticchie sì volendo uno la può mangiare anche due o tre volte alla settimana a me piace tra l'altro il legume il legume è buono il cazzo è una figata per esempio nelle linee guida i legumi venivano dati tre o quattro volte a settimana adesso sono cambiate anche tutti i giorni ok sempre se c'hai il bioma lì pronto che appena lo mangi poi sei singolo ora quindi puoi anche allenarti non volevo entrare in questi dettagli però hai fatto nel senso che c'è molta più libertà adesso esatto e dopo questa dichiarazione ancora di più anche nessuna vorrà vedere il deserto dei tartari esatto ecco a me sulla carne è successo così nel senso che io sono stato vegetariano per tre anni chissà perché non mi ricordo sono in realtà vegetariano ecco può capitare invece che uno mangia talmente tanto una cosa che poi non riesci più a tollerarla cioè io ero figlio io sono figlio ero sono e sarò sempre figlio di un macellaio ho mangiato la carne tutti i giorni per vent'anni e ho sentito l'esigenza ad un certo punto non ci stavo più dentro è possibile che ci sia o è psicologico tenderei a dirti più la seconda sì perché poi è conciso anche col fatto che ho iniziato a fare meditazione sai quindi ti prende il trip di tutto sano tutto sano scusa tutto vegetariano tutto e poi magari così ma non abbiamo ancora evidenze nel senso molte si spendono tanti soldi per cose che salvano la vita per delle cose più superficiali cioè per esempio quello che noi di cui ci occupiamo perché principalmente ci affrontiamo l'alimentazione sportiva sull'alimentazione sportiva c'è un po' di letteratura soprattutto per quanto riguarda gli sport di endurance ma per esempio per la palestra pochissima cioè quando mi dicono tu sei scientifico e penso alla letteratura scientifica che c'è nel mio ambiente mi vergogno perché cioè ce n'è talmente poca che chi un attimo se ne intende cioè gli viene da ridere proprio perché chi è che spende soldi per qualcosa che alla fine non è così rilevante anche lo stesso ricercatore anche se adesso ci sono dei ricercatori anche specializzati in questo hanno come dire un'anomea un'autorità molto molto bassa se si occupano di queste cose sì cioè tipo no mi viene in mente anche tutte quelle persone che pensano di essere intolleranti al glutine anche quella è un'altra super fobia che secondo me è partita è impossibile che ci siano così tante persone intolleranti al glutine il punto è questo che cioè vedi se sei intollerante al glutine se quando ti danno delle pillole che tu non sai che cosa c'è dentro e regisci in un modo o regisci in un altro e gli studi in cui si danno delle pillole contenenti glutine la gente non cioè chi dice di essere intollerante al glutine e che cos'è che scatta lì cioè secondo te ti sei fatto un'idea cioè cos'è che scatta nella testa delle persone che produce addirittura un effetto psicosomatico che poi posso credere che sia reale sì 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 ma secondo me è la speranza che tu non hai ottenuto ancora quello che desideravi dal tuo fisico dalla vita eccetera eccetera perché c'era qualcosa che ti frenava e che non ti permetteva di esprimere il tuo potenziale quindi io non ho cioè non ho il fisico dei miei sogni perché sono intollerante al glutine a questo a quest'altro e quindi mangiando secondo il mio DNA riuscirò a essere quello che nella mia mente mi aspetterei di essere secondo me è questa roba qua il gruppo sanguigno parliamo io l'ho visto lui Mozzi Mozzi sì in bicicletta quando abitavo in provincia di Varese sono finito in un paese come si chiama Piano Gentile c'è un mercato biologico bancarelle tutte vuote una bancarella con la fila di persone e c'era Mozzi fila lunga di persone in fila che aspettavano e c'era il dottor Mozzi lui proprio fisicamente lui in real person suo figlio eccetera arrivano le persone è come andare dal papa gli dicevano no era un'udienza cioè aspettavano lì silenzio arrivando da lui gli dicevano due tre cose lui faceva sì tac 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 tieni tac tac e piglia cioè sto facendo un gesto per chi non ci vede su youtube pescava da dei dei barattoli dove aveva dentro queste pillole di integratori tu questo tu questo non ti dico quanti soldi quanti soldi si faceva vendendo sti robi qua con la fila fuori con la dieta del gruppo sanguigno eh sì con la dieta del gruppo sanguigno che poi anche lì nel senso quello che si è visto è che la dieta del gruppo sanguigno mediamente funziona senza avere nessuna base scientifica perché tra uno che mangia qualsiasi cosa i biscotti davanti alla televisione e seguire quella dieta sanguigna è una dieta mediterranea è una dieta paleo cioè ha un po' di diete diversa secondo il gruppo sanguigno comunque gli effetti che ottieni sono sempre migliori del mangiare liberamente il punto è questo quindi semplificazione sì cioè nel senso ci sono tante cose che qualsiasi disciplina è meglio di nessuna disciplina esatto esatto cioè è proprio proprio questo cioè nel senso darsi delle regole anche se queste regole sono sbagliate comunque producono un effetto positivo ed è per questo che si fa tanta fatica poi in campo di diete di alimentazione cioè perché comunque le persone se le dici il segreto è che non esistono segreti cioè nel senso cioè le persone dico no guarda dammi delle regole da seguire famici credere che otterrò perché per me mi fa risparmiare più energie mi motiva di più e siccome aderire alla dieta la motivazione è il 90% del risultato meglio seguire la dieta dell'indice glicemico anche se non è l'indice glicemico il problema che non seguire la dieta dell'indice glicemico è come dire meglio essere cattolico cioè è un po' come per la religione per alcuni magari la vivono in maniera inconsapevole spesso però già il fatto di avere quelle pratiche quella disciplina comunque sia fa stare meglio esatto guardando i tuoi video a proposito di questo parlavi anche di una piramide una piramide che però io mi aspettavo fosse la piramide quella che c'è nei prontosi occorsi negli ospedali piramide alimentari esatto quella che ti dice devi mangiare tantissimo di vegetali poi sempre di meno e alla fine c'è la salamella la prendi nel culo che è proprio il male l'ho visto in tuo video mi diceva la salamella è come le sigarette ci sta ma infatti io fumo nel senso no una sigaretta fumi salamelle esatto però ecco invece la tua piramide è diversa la piramide della consapevolezza alimentare come funziona sai che non me la ricordo questo è ancora di più ti dà il mio rispetto allora rifacendola adesso come la farei in questo momento non so se è una piramide della consapevolezza alimentare diciamo che alla base c'è l'aderenza alla dieta la disciplina di cui parlavamo prima trovare quelle non adattarti alle regole ma avendo molta flessibilità perché poi i tasselli successivi vedrai che saranno molto liberi riuscire a capire se seguo il digiuno intermittente seguo tanti pasti preferisco mangiare grassi preferisco mangiare carboidrati quindi innanzitutto incominciamo a dire con cosa ti trovi meglio e questo è il tassello di base perché se io ti dico che il digiuno intermittente è la cosa migliore del mondo ma tu non ti trovi e viceversa me la fai un mese due mesi me la mogli una frase che ripeto sempre che se come mangi oggi non mangerai per il resto della tua vita i risultati ottenuti saranno destinati a fallire quindi devi trovare qualcosa che non ti pesa fare perché se ti pesa fare è come la goccia che rompe la pietra prima o poi crolli seconda cosa devi trovare un quantitativo energetico consono a quello che puoi sopportare e consono all'obiettivo che vuoi raggiungere faccio un esempio ci può essere una forte individualità sul fabbisogno calorico di ognuno di noi magari io ho 2.500 lui ha 3.000 lui ha 2.000 se io ci metto tutti a 2.000 io ottengo un risultato ho fame un po' ma riesco a fare la dieta lui muore di fame lui non dimagrisce quindi proprio in partenza indipendentemente dallo stile di vita abbiamo esigenze energetiche diverse abbiamo esigenze energetiche diverse c'è una forte soggettività cioè nel senso questo può essere una scusa per qualcuno per dire no io devo mangiare di più può essere però tanto poi il risultato si può misurare allora tutti lo vogliono misurare è molto complicato ma è molto facile da sapere basta che segui veramente quella dieta per una settimana e poi la ricalibri la settimana seguente cioè non hai bisogno per fare la dieta di sapere quanto consumi hai bisogno che dopo la settimana capisci se c'hai fame o no esatto cioè hai perso peso quanto ne hai perso non hai perso peso e poi la dieta dovrebbe essere qualcosa di dinamico non che questo mese fai sta dieta qua come questo mese faccio questa dieta qua e se non va bene cioè dopo una settimana ci risentiamo dopo una cioè magari adesso tanti nutrizionisti mi diranno ma se io voglio fare un bel lavoro ogni settimana vedo e monitoro la persona perché già dopo due settimane che sta dimagrendo troppo sta dimagrendo troppo poco io devo già adattare perché noi abbiamo un'omeostasi che è un sistema un mosaico fluido quindi che si adatta a quello che facciamo e la dieta deve essere qualcosa che continua ad adattarsi nel tempo non qualcosa di non è che ci vuole chissà che scienza che cioè i parametri da tenere in considerazione sono pochi e semplici però vanno tenuti in considerazione e quindi a base all'età anche no? cioè si tende a mangiare di meno col passare degli anni è vera teoricamente sì cioè nel senso col passare degli anni soprattutto superati i 70 anni tendiamo a perdere il gusto sia pure quello questo o spinge le persone a mangiare delle cose sempre più forti per risentirlo o porta le persone a mangiare di meno quindi possiamo trovarci l'anziano che incomincia a essere sarcopenico incomincia a essere sotto troppa massa magra perde troppa massa magra ok cioè nel senso nell'anziano c'è il pericolo di avere una carenza molto forte di massa magra e quindi teoricamente teoricamente più avanziamo con l'età e meno sentiamo il bisogno di mangiare poi in realtà vediamo che più le persone invecchiano e più ingrassano e questo sta a significare che non tutti sentono meno l'esigenza di mangiare perché se più invecchi più ingrassi vuol dire che stai continuando a mangiare troppo però ecco un'altra delle grosse credenze è che ah io fino a 20 anni fino a 30 anni ero così poi dai 40 in realtà la nostra età biologica arriva almeno fino a 60 anni nel senso fino a 60 anni siamo se facciamo le cose bene siamo giovani nel senso anche a livello di prestazione ovviamente non vinci le olimpiadi ma non è che la prestazione di un cinquantenne che si è sempre allenato sempre fatto le cose così bene crolla rispetto a un ventenne poi ottenere ancora degli ottimi risultati anche a 60 anni 60 anni quello che si vede è che quel calo ormonale che veniva dato dopo i 30 40 anni in realtà avviene per chi è sedentario quindi si inizia a invecchiare veramente dopo i 30 40 anni se siamo sedentari e mangiamo male se siamo sportivi e mangiamo bene si inizia dai 60 anni in poi questo è quello che fa vedere la ricerca proprio sul dispendio energetico che fa vedere che tanti soggetti hanno lo stesso metabolismo a 60 anni come a 20 anni se continuano ad allenarsi e hanno lo stesso stile di vita perché magari finché sei giovane vai a ballare ti muovi di più esci non hai la famiglia non hai impegni e quindi non ti rendi conto ma sei molto più attivo rispetto a quando hai 40 che devi cambiare pannolini che devi ecco cioè questo che fa poi molto la differenza e che ci dici della capacità di metter su massa muscolare dopo i 40 sì muscolare ma grassa non credo che esista dopo i 40 allora dipende da che punto parti perché se sei sedentario ce l'hai se sono 20 anni che ti alleni cerchi di mantenerla quindi dipende un po' dal punto di partenza però se uno parte da zero già a 40 ci sono ottimi margini di miglioramento e fargli vedere pucca fa vedere il muscolare era quello che dicevamo prima uno che parte da zero vedrà nel giro di pochi mesi già i risultati qualcosa lo vede già anche negli anziani c'è un miglioramento perché partono magari da un livello talmente basso che dipende poi uno che obiettivi che obiettivi ha ecco a proposito di questo di obiettivi io ho dei miti nella mia vita tipo non so le rock star io sono affascinando mi piacciono i Beatles Paul McCartney ha 80 anni quest'anno e va a fare un tour americano anzi è iniziato già sta facendo un tour americano 80 anni da solo suona per tre ore magro bello come cazzo però non è muscoloso però è forma fa un concerto e anche Mick Jagger poi ho visto che anche lui fa dei concerti si muove balla fa salta 80 anni anche lui un po' di meno però non è muscolo cioè non ha la massa che hanno alcuni tuoi colleghi divulgatori coach che invece spingono molto su avere tanta massa muscolare che può essere un modo per invecchiare meglio cioè qual è la verità devo diventare con la testa piccola e i muscoli grossi come ho visto anche nei video c'è un tuo collega che ha che cazzo è muscoloso di brutto cioè a me non so anche la bellezza greca non so come dire tra uno che è proporzionato adesso non voglio farti il filo però tu cioè tu sei un po' greco no è un po' bronzo lui non so come dire c'è la barba e i capelli lunghi però sei definito sei sei armonico se uno ha la testa piccola il corpo grosso non è armonico però qualcuno qualche coach dice no devi pompare i muscoli più ce n'hai più sei allora diciamo questo che poi non so chi sia il collega però cioè tipo Filippo Ongaro lo conosci lui c'è un fisico dice che bisogna fare tanti muscoli anche a me mi ha detto che devo avere più muscoli ma io mi piace avere muscoli effettivamente adesso off sto facendo palestra e ha ragione che dovevo farla no no però quando vedo la testa piccola che non è proporzionata al corpo il braccio più grosso della cioè non so come dire ma non c'è una una scuola che dice guarda se hai il bicipite più grosso della testa già quello è un messaggio allora diciamo questo che geneticamente sono molto pochi quelli che hanno questo livello qua di solito c'è un piccolo grande aiuto farmacologico che può portare creatina eh no ti fa diventare un creatino però poi mi sa che ci vuole ben ah gli anabolizzanti gli anabolizzanti sì ecco diciamo che poi anche nell'antiaging tutta sta roba qua girano ormoni girano parecchio sì sembrerebbe però prendetelo con le pinze che per esempio soggetti molto molto forti tendono a vivere meno perché alla fine quello che interessa l'essere umano è la sua capacità riproduttiva non la durata della sua vita più durante il periodo fertile riesci a riprodurti e più hai un vantaggio evolutivo quindi in alcuni soggetti la natura che cosa fa li fa esprimere in un lasso di tempo più breve tanto perché così si riproducono tanto e poi li elimina tra virgolette mentre soggetti meno performanti magari tendono a vivere di più quindi se la forza è correlata con un'aspettativa di vita quindi anziani più forti hanno più probabilità di sopravvivere parliamo sempre rispetto a una media di una popolazione sedentaria ho detto sta cosa a Rick Dufer poi mi hanno corretto ma fino a qualche anno fa non esistevano campioni olimpionici per esempio ultracentenari oggi ci sono però ci sono negli ultimi anni nel senso perché comunque chi raggiungeva performance massime chi aveva una genetica portata al massimo in media non tendeva ad avere una vita cioè è un po' come la frase di Blade Runner che dice la fiamma che brucia col doppio dello splendore tenta a consumarsi nella metà del tempo sì perché poi diciamolo un atleta olimpico non ha una vita proprio sana infatti cioè oltre al gene è anche che ti sei consumato molto facendo quella vita lì poi se sei russo e cinese magari cambia anche sesso nella Germania dell'est però diciamo che anche qua probabilmente il 70% lo determina la nostra genetica 30% quello che facciamo noi cioè nel senso purtroppo è ingiusto ci possono essere persone che si fanno di droghe bevono fumano e a 80 anni sono ancora esatto kids richards ecco iper giovani e quello che fa la vita attiva sport mangia benissimo a 60 anni ci lascia le penne oppure diventa sportoressico no come si dice che si sfonda dappertutto tipo oggi sentivo Linus Linus di Radio DJ che questa settimana va a farsi l'ennesima maratona no no operazione attendita da kille perché ha il corpo completamente distrutto da decenni di maratoni ecco per esempio quello che si vede è che chi fa tante maratone ha un'aspettativa di vita come sedentari ok quindi se fare jogging correre fa bene eccedere col chilometraggio settimanale ti accorcia la vita non te l'allunga quindi è una gaussiana cioè nel senso se sei nella curva sinistra devi fare più sport se vai dalla parte destra fai troppo sport e non va cioè è un campione olimpico di curling vale come sedentario anche quello anche secondo me almeno sta in piedi è quello con la scopetta quello è un po' di curling comunque massimo rispetto vedo che anche voi sul vostro sito che dopo li diciamo tutti però progetto invictus l'abbiamo già detto project insegnate la calisthenics che è venuto qua il come si chiama il cuoco Diego Rossi Diego Rossi che salutiamo di trippa che anche lui aveva iniziato a fare calisthenics visto che la fa Diego Rossi la fai tu poi ci devi dire che cos'è perché io non lo sapevo cos'era no faccio fit è tutto show perché sta partendo così bene questa roba e si possono ottenere i stessi risultati che si ottengono con i pesi senza spendere i soldi della palestra diciamo che il periodo covid ha fatto sì che il trend maggiore nel fitness è stato il calisthenics nel senso che cos'è allenamento corpo libero poi il calisthenics si suddivide in 10.000 famiglie c'è quello che fa cose strane circensi quello che fa solo piegamenti sulle braccia però diciamo tallini a corpo libero possiamo dire che fai calisthenics e quindi possiamo utilizzarli come sinonimi anche se poi ci sarà chi non è d'accordo chi però è una grande famiglia accomunata dal fatto che come attrezzo utilizzi una barra per trazioni il pavimento delle parallele degli anelli poche cose essenziali secondo me puoi ottenere per chi non ha mire agonistiche quello che puoi ottenere in palestra anzi ai bassi livelli forse anche di più perché ti obbliga a raggiungere dei livelli di forza che magari in palestra la maggior parte delle persone cioè perché il tuo peso del corpo è quello non puoi sottrarre hai capito poi se sei troppo debole rischi di non ottenere risultati perché non riesci a fare abbastanza sforzo volume allenante eccetera eccetera quindi era meglio utilizzare i pesi che li potevi regolare sulle tue esigenze che lo scoglio del corpo libero diciamo che sicuramente la palestra puoi fare sia corpo libero che macchinari che pesi liberi cioè è meglio certo tra virgola dal punto di vista estetico o quant'altro però uno che ha una buona base di forza non è troppo grasso perché anche lì se fai calisthenics e hai più del 15% di grasso corporeo diventa tirarsi su fare gli esercizi a corpo libero diventa un po' quindi giusto e infatti va tantissimo sui ragazzi giovani hai capito perché ragazzi giovani sono ancora magri sono ancora forti eccetera eccetera riescono velocemente ad allenarsi bene una persona che ha 40 anni che inizia bisogna vedere quanta forza ha perso bisogna vedere come è messo con le articolazioni cioè potrebbe essere paradossalmente una fase successiva no? sì potrebbe essere una fase successiva prima la palestra normale ti rimetti un po' in bolla sì perché per esempio io non riesco ancora a fare una trazione alla sbarra se non riesci a fare quella dove vai? esatto esatto cioè ci sono dei livelli minimi che poi in realtà diciamo anche le ragazze riescono quindi è semplicemente una questione di avere una frequenza programmare in modo abbastanza decente e più o meno tutti possono arrivare a farlo frequenza programmare programmare allora io se dovessi fare calisthenics a casa non avrei la costanza di farlo soprattutto adesso vanno di moda sia nello yoga ma anche nella palestra nel fitness le app dove c'è un automatizzato a seconda di metti due o tre parametri boom ti vengono fuori gli esercizi che la gente con il covid dice ah che figata risparmi sulla palestra faccio tutto da casa ma per me è impossibile l'idea di tanto per me è la stessa cosa anche con lo smart working io non è che sono contro lo smart working io sono in smart working da 15 anni da quando ho fatto monosurfers quindi figuriamoci ma ci sono delle cose che in smart working non si possono fare e lo smart palestra secondo me ci sono delle cose che non riesci a fare da solo a meno che veramente ripeto sei un monaco shaolin con una disciplina interiore che bruci le persone con lo sguardo allora dico tu puoi far tutto ma una persona normale non ci credo che riesca a ottenere gli stessi risultati da casa senza quella rituale di andare in un luogo che è la tua cattedrale piccola cattedrale del benessere che è la palestra io te lo dico perché in palestra faccio un tot addominali a casa faccio il doppio della fatica in casa puoi smettere in qualunque momento invece nel momento in cui sei uscito di casa non smetti finché non sei andato in palestra non hai fatto tutto quello che devi fare finché torni a casa però secondo me è come col digiuno intermittente che dicevamo prima invece c'è una percentuale della popolazione che si scarica la sua app e la utilizza da anni che a casa riesce a avere quella tranquillità nessuno attorno si concentra su quello e magari andava in palestra non era costante la maggior parte delle persone hanno bisogno di cambiare ambiente per cambiare mentalità eccetera eccetera e quindi probabilmente sono più motivate ad andare in palestra ma c'è una percentuale io ne conosco diversi che a casa ma scusa però tanto quanto lo dico la stessa cosa nello yoga ma anche nel fitness il fai da te non è pericoloso cioè non rischi di secondo me è molto meno di quello che cioè è un po' come l'alimentazione nel senso in Italia per dare consigli alimentari devi essere un biologo un nutrizionista un medico un dietista in tanti altri paesi no quello che dico sempre è che il nutrizionista più diffuso in Italia è la mamma che senza avere nessuna cognizione alimentare fa da mangiare per tutta la famiglia e nessuno muore perché la mamma sta facendo da mangiare infatti noi abbiamo le diete più opposte possibili ma non è che abbiamo ogni giorno dei morti perché hanno iniziato questa dieta questa quest'altra poi magari trovi il pazzo il fanatico che toglie tutto e poi sta male però mediamente il corpo è meno fragile di quello che crediamo ecco io ho questa visione qua è molto poi a casa magari non c'è qualcuno che ti segue tutto ma il livello è talmente basso anche in palestra che molto spesso non è sicurezza che l'istruttore il personal trainer che stai pagando ha veramente quella competenza per vedere l'unica volta che mi sono veramente fatto male se ho stato una settimana a letto era col personal trainer anche mia mamma non è mai successo altrimenti io ho questa immagine di mia mamma che inizia il lavoro col personal trainer mia mamma ha tanti problemi di schiena faccio mamma cosa ti fa fare mi fa fare questo questo faccio mamma ma tu non puoi fare queste cose no no il mio personal trainer è bravissimo un mese dopo bloccata il personal trainer non era più bravissimo però era simpatico e quindi mia mamma vedeva la simpatia come competenza no io molti anni fa vado in palestra il trainer fa allora dunque tu devi allargarle spalle cioè io il tempo ero messo bene tutto il contrario poi hai capito Pietro guarda che sono Giovanni ho sbagliato scheda e mi guardava poi ecco diciamo che i livelli sono molto bassi comunque ho visto in palestra da me invece secondo me lui è bravo nel senso che è una persona anche simpatica sei come la mamma e ti fa tanti complimenti no cazzo però è vero in effetti la simpatia è vero però cos'era cialdini che diceva c'è il fattore bellezza quindi chi è più bello tendiamo a posizionarlo più in alto chi è più simpatico tendiamo a posizionarlo chi è più simile a noi tendiamo quindi il segreto è trovare un personal trainer brutto e antipatico così sei sicuro che male ti sono il fattore competenza non mi ricordo più quello che volevo dire con sta premessa direi che siamo anche di tardi una domanda io e l'arrampicata perché l'ho sempre visto come uno sport che deve essere molto completo non ho competenze però penso che anche lì molto molto bello ha una barriera di ingresso più alta rispetto alla palestra è che lì comunque si muovi tutto però c'è proprio il divertimento l'emozione piuttosto che star lì a far trazioni il problema è trovare una palestra di arrampicata vicino a casa tua oppure anche il surf il problema è trovare le onde vicino a casa tua comunque noi ti ringraziamo Andrea e hai detto una cosa che tra l'altro diceva anche il mio maestro il mio maestro Maharishi che è quello che ha inventato la meditazione che ha tramandato la meditazione che pratico io quando gli chiedevano maestro che cos'è che dobbiamo mangiare e lui diceva quello che ti dava tua mamma che è un messaggio bellissimo sarà un caso ma io quando vado a casa da mia mamma mi può dare qualsiasi cosa mangio digerisco tutto e sto bene però credo che fosse un messaggio come vuoi dire i problemi sono altri cioè non quello che mangi a meno che non mangi di merda poi un'altra cosa che volevo dire adesso mi è venuta in mente scusa ma passo di pali in frasca oggi siamo liberi a me capita spesso di vedere gli anziani che mangiano come dei treni primo secondo dolce antipasta e non stanno male perché noi della nostra generazione non riusciamo a mangiare la quantità di cibo che mangiano gli anziani secondo te c'è proprio secondo me da capire se è una tua percezione sì no oppure perché siamo stressati oppure perché siamo facciamo una vita così agitata che effettivamente scusa quando vedi anche a nord a sud dappertutto che mangiano vanno a ristoranti questi si mangiano ma sono alla faccia sono delle delle botti io sono pugliese in Sicilia non ne parliamo guarda però lì è difficile trattenersi no lì non c'è altro da fare lì c'è solo da mangiare va bene finendo in cacciara salutiamo Andrea no allora diamo i tuoi riferimenti allora ne parlavamo prima che iniziassemo la puntata quando ci siamo conosciuti siti di project Invictus sono due quindi ce n'è uno sui contenuti più blog uno per gli utenti e uno per i professionisti quello per i professionisti è l'academy Invictus Invictus Academy professionisti personal trainer personal trainer e adesso lo apriamo a settembre a medici biologi dietisti quindi a settembre del 2022 adesso sì adesso tra qualche cioè sì beh è giusto fra sei mesi per me il roadmap esatto per me sì sì e invece poi un sito per gli utenti quindi vi allargate anche a quest'ambito qua ma allora in realtà sì già lo trattavamo ma non lo trattavamo in modo verticale specifico ma avevamo tantissima richiesta quindi già facevamo e adesso ci occupiamo e sono videocorsi o esperienziali o corsi in presenza ma tutti e due ibrido sì 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 poi diciamo che le figure sanitarie hanno i crediti e i cm quindi devono fare formazione continua quindi entrano in un percorso formativo un po' particolare e quindi ci adeguiamo fighissimi tutti i tuoi progetti proprio prima ne parlavamo mi piace un casino la grafica la pulizia l'ordine e anche il substrato valoriale perché come spesso accade cioè come non spesso accade non ci sono false promesse non c'è una religione da seguire non ci sono dei dogmi e quindi è molto postmoderno come sito e per quello mi piace ti ringraziamo Andrea io starei qui per ore ma abbiamo anche tutti quanti altre call riunioni ti salutiamo sei stato gentilissimo spero che ti sia piaciuta questa puntata e niente siamo tornati dopo due settimane e come avete visto siamo riusciti a non parlare ah sì sì giusto della dark side di questa vita ciao Andrea grazie questo è il Bazzara Tonico